Miei cari salve a tutti, benvenuti e soprattutto ben ritrovati qui sul canale, qui su The Zion Theory sono ovviamente Spazio e quest'oggi parliamo di Supersex, una delle serie sicuramente più attese del 2024, in particolar modo del mese di marzo, ne parleremo con una recensione piuttosto sintetica, insomma a breve voglio cercare di essere veloce e toccare i punti essenziali di questa produzione, prima di farlo però voglio ricordarvi delle cose molto importanti, ovvero di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di lasciare un like, un commento, sono dei gesti ribadisco molto importanti per la crescita del canale e totalmente gratuiti. Vi invito anche ad attivare la campanella se volete rimanere aggiornati sui contenuti che porto qui su The Zion Theory, sapere quando escono dei nuovi video, sapere con esattezza l'orario insomma in cui escono, qui sotto trovate in descrizione anche i link per seguirmi sui miei profili social. Ma banda ad ulteriori ciance ragazzi, parliamo appunto di questa serie con protagonista Alessandro Borghi che interpreta Rocco Siffredi, una serie che posso definire sicuramente particolare ma in particolar modo, scusate il gioco di parole, ambivalente dalle due facce, perché secondo me per coloro i quali si aspettavano una serie più incentrata sull'industria del porno, insomma sulla carriera da porno dio ecco di Rocco Siffredi, ebbene questi ultimi che si aspettavano questo approccio potrebbero sicuramente rimanere delusi, perché il fulcro principale di questa serie è la crescita, la maturazione di Rocco Siffredi attraversato da una serie di drammi, insomma di situazioni familiari che ne hanno sicuramente forgiato poi la personalità, il carattere a lungo andare. E il conseguente quindi distacco da parte di Rocco Siffredi dal nucleo familiare per diventare quindi e passare dall'essere Rocco Tano al diventare per l'appunto Rocco Siffredi. In sostanza più che di sesso questa produzione ci parla di legami familiari, quindi un amore più platonico se vogliamo da un certo punto di vista, anziché un amore più carnale, perché ribadisco il fulcro, insomma il pilastro di questa produzione è proprio vedere come la sfera familiare, insomma gli affetti abbiano influito sulla crescita di Rocco Siffredi, insomma tutte le situazioni molto particolari. Dalla sua infanzia tortona lo vediamo proprio crescere e maturare fino ad allontanarsi, ripeto, e fare poi la sua carriera inizialmente a Parigi, poi successivamente andare ancora più lontano e quindi attraversare l'oceano per raggiungere a Los Angeles. È sicuramente affascinante vedere come la parte più legata, ripeto, alla carriera del porno divo, insomma la parte più legata alla sfera sessuale, risulti meno memorabile, risulti più scalfita in superficie, rispetto a quanto invece accade per la componente drammatica, emotiva e, ripeto, familiare della vita, insomma, di Rocco Siffredi. Infatti, insomma, tutti gli episodi e le scene che vediamo per quanto riguarda la carriera da porno divo di Rocco Siffredi risultano in qualche maniera forse anche più macchiettistici, edulcorati, insomma più quasi carnevaleschi, mi verrebbe un po' da dire da questo punto di vista, mentre abbiamo proprio un tenore completamente diverso per quanto riguarda la sfera emotiva e personale di Rocco Siffredi che, torno a ripetere, è comunque la base principale della produzione. Quindi abbiamo un tono drammatico, un tono più pesante, più serioso, proprio nel vedere quello che ha dovuto attraversare Rocco Siffredi, insomma i legami con la madre, con il fratello adottivo, Tommaso, insomma, che è interpretato da uno straordinario, sicuramente Adriano Giannini, e anche sull'interpretazione poi dei singoli attori torneremo successivamente, però ecco, tutte queste dinamiche familiari sono quelle affrontate secondo me meglio, mentre la parte legata alla sfera, insomma, del porno è relegata a qualcosa di affrontato superficialmente. Per quanto concerne la struttura generale di questa serie, la serie consta di sette episodi, della durata di poco meno di un'ora, insomma, ciascuno, quindi anche abbastanza, diciamo, compatta da questo punto di vista, non eccessivamente lunga, e secondo me vive un po' di andirivieni, un po' altalenante come ritmo, proprio perché si mischiano un po' queste varie situazioni, c'è il dramma familiare, c'è anche un po' una componente di thriller, mi verrebbe un po' da dire, perché la parte in cui Rocco si allontana e va, diciamo, a Parigi con il fratello adottivo, insomma, Tommaso, un Tommaso che si guadagna da vivere con attività tutt'altro, insomma, che lecite e legali, quindi c'è anche quella parte un po', diciamo, di thriller, fra virgolette, da questo punto di vista, quindi ci sono tante situazioni, magari, il dramma familiare, questa parte che vi ho detto un po' più da thriller, e invece la sfera, appunto, legata alla componente della carriera da pornotivo di Rocco Seafreddy, per cui si fa un po' fatica, secondo me, ad amalgamare un po' queste situazioni, a metterle un po' insieme, perché alcune cose sono riuscite meglio di altre, quindi il risultato complessivo, per certi versi, può risultare un po' confusionario. Da un certo punto di vista, secondo me, è un peccato non aver affrontato lo star system del porno in maniera magari più approfondita, perché secondo me ci sarebbe stato molto da mostrare, molto da dire riguardo questo mondo che sicuramente sa essere crudele, sa essere feroce e senza pietà. Sotto certi punti di vista lo vediamo, per esempio, in tanti, comunque, personaggi che sicuramente conosciamo e riconosciamo all'interno della serie, insomma, Moana Pozzi, anche viene menzionato brevemente, John Holmes, insomma, tutta una serie di personaggi che comunque sono stati fagocitati, insomma, dall'ambiente pornografico, per cui, ecco, questa parte dove forse poteva spingersi un po' di più la produzione, magari a farci respirare quello che è un ambiente che sicuramente, insomma, non è facile e, ripeto, sa essere molto spietato, ecco, forse mi sarebbe piaciuto che venisse affrontata meglio questa questione e questo lato, ecco, della carriera e della vita di Rocco Siffredi. Del resto, però, non è nemmeno troppo criticabile la scelta, appunto, fatta dalla produzione, che è assolutamente condivisibile perché, invece, ha voluto spingere più sulla infanzia, sulla crescita e sulla maturazione di Rocco, sul vedere cosa ha portato Rocco Siffredi, insomma, a fare certe scelte, cosa lo ha portato, insomma, a diventare poi il personaggio che tutti quanti noi più o meno conosciamo, insomma, a livello mediatico, per cui sicuramente è una scelta condivisibile ed è una scelta che comunque dà una certa identità al prodotto perché si vede già in partenza che lo scopo e il fine ultimo di Super Sex è proprio quello di concentrarsi sull'aspetto emotivo e drammatico della vita, appunto, di Rocco Siffredi. L'obiettivo, quindi, di Super Sex è proprio quello di costruire il dramma di Rocco Siffredi e farci capire anche il lato, appunto, meno noto di Rocco Siffredi perché senza dubbio l'immagine che ci viene data in pasto, insomma, di Rocco Siffredi non è quella vera, insomma, per cui andare a vedere, a ripercorrere la vita di Rocco Siffredi alcune figure che sono state determinanti e sicuramente molto influenti nella sua vita è una scelta assolutamente comprensibile. All'interno della serie è molto importante la figura di Tommaso interpretato da Adriano Giannini, legandoci, appunto, a quanto dicevamo poco fa e quindi l'importanza e l'obiettivo principale della serie che è quello di descriverci, insomma, l'ambiente familiare, insomma, di Rocco Tommaso che inizialmente è un po' il modello, insomma, l'eroe, per l'appunto, di Rocco poi mano a mano che passano gli anni invece Rocco scopre un lato di Tommaso sicuramente meno positivo e certamente Alessandro Borghi e Adriano Giannini, secondo me, elevano un po', ecco, la produzione a livello generale con le loro interpretazioni, sono sicuramente i migliori interpreti in questa produzione insieme a Jasmine Trinca che interpreta la compagna di Tommaso Lucia che anche nella vita stessa di Rocco è stata determinante come determinante è stata anche la madre, ovvero Carmela interpretata in questo caso da Tania Garibba insomma, queste performance sicuramente hanno dato un qualcosa in più alla serie in generale che per me si attesta sicuramente su un buon livello, non eccelso però sicuramente, ecco, le interpretazioni di questi attori hanno fatto sì che la serie potesse avere un risalto, un risalto maggiore nel complesso, insomma, ragazzi, il prodotto tutto sommato ha funzionato sebbene, ribadisco, non viaggi su dei livelli eccelsi, ecco, di qualità insomma, a livello generale, delle situazioni potevano essere affrontate in maniera più approfondita, altre sono state fatte sicuramente bene ecco, la vita di Rocco, l'aspetto emotivo e familiare certamente ha una sua valenza importante nel complesso un prodotto che ritengo più che sufficiente ma non credo possa essere, insomma, una produzione in grado di ripeto, stagliarsi, insomma, su livelli di tante altre serie che possiamo trovare, insomma, sul catalogo Netflix detto ciò, ragazzi, fatemi sapere la vostra cosa ne pensate di questa serie se vi è piaciuta, se invece non vi ha convinto, insomma, fino in fondo fatemelo sapere qui sotto nei commenti noi ci vediamo, ragazzi, lunedì con un nuovo video non mi resta che salutarvi un abbraccio a tutti voi da Spazio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti